Ciao a tutti, benvenuti all'episodio numero 294 dell'italiano in podcast. Questa è la puntata di martedì 24 agosto 2021 e siamo ancora nel 24 agosto, quindi anche oggi inizio a registrare prima della fine del giorno un podcast registrato più presto, ma questo non sempre significa andare a letto presto, quindi non ho perso le mie abitudini da vampiro. Ieri ho finito il podcast prima della fine della giornata, ma poi tra varie cose sono andato a dormire alle 2.30 in ogni caso, quindi non sempre finire il podcast prima significa andare a letto prima. Comunque, benvenuti, vi dicevo a questo nuovo episodio dell'italiano in podcast. Io sono Paolo e anche oggi vi faccio un po' compagnia per raccontarvi qualcosa della mia giornata e anche qualcosa di quello che è accaduto in Italia. Lo scopo è sempre lo stesso, quello di tenere in allenamento, di esercitare la vostra capacità di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Quindi con questi semplici argomenti, la vita di ogni giorno e qualche notizia importante, proviamo un po' a cercare di migliorare questa capacità di comprendere quello che dice un madrelingua quando parla in un modo abbastanza naturale. Ogni giorno facciamo lo stesso esercizio, io spero che questo sia davvero utile per voi e e spero che i vostri miglioramenti siano anche un po' merito di questo spazio quotidiano, di questo nostro appuntamento quotidiano che, vi ricordo, è uno spazio del mio blog aspecchitaliano.it. Non lo faccio quasi mai, ma ogni tanto è necessario. Vi chiedo di fare un po' di pubblicità, se vi piace questo podcast. Mi piacerebbe vedere molte più persone tra i miei ascoltatori, quindi se avete qualche amico che studia l'italiano, se conoscete qualche insegnante italiano, fate un po' di pubblicità al podcast, al blog, perché in questo momento, insomma, mi farebbe piacere ricevere qualche conferma. Ci sono molti amici che ogni giorno mi mandano tanti messaggi per per dirmi che il podcast va bene, che il podcast è buono, ma se avete davvero la volontà di continuare ad ascoltare il mio podcast, questo mi farebbe molto piacere, insomma. Andare avanti a volte è un po' difficile, è un po' duro perché c'è molto lavoro, ma quando ci sono dei risultati questo è molto molto più facile. Quando si ricevono messaggi come quello dell'altro giorno da Fatima o i messaggi di Alessandra ogni giorno su quanto sia buono ascoltare il mio podcast, beh, allora la voglia viene viene ancora di più, insomma, di andare avanti e di continuare senza dubbi. Poi ci sono gli amici di sempre, quelli che questo podcast lo hanno visto nascere, per fortuna sono sempre lì, ancora lì, rimangono lì e questo è un grande aiuto davvero. Un giorno magari vi dirò tutti i nomi delle persone a cui davvero devo dire grazie per il supporto e per l'aiuto, l'aiuto a non fermarmi, insomma, non lasciare mai questa abitudine di parlare ogni sera a tutti voi. Ma adesso basta con questa cosa, non voglio più chiedervi altro, ma solo se avete voglia fate un po' di pubblicità al podcast, al blog, per continuare a vedere sempre più contenuti e sempre più cose interessanti. Beh, anche oggi vi dicevo cominciamo con il racconto della giornata, della mia giornata e poi vi diamo un po' le notizie. Quindi, come dico ultimamente, mettetevi comodi, aprite bene le orecchie, rilassatevi, cercate di concentrarvi anche un po' e provate a seguirmi, a seguirmi. Provate a starmi dietro e a vedere quanto italiano riuscite ad acchiappare questa sera. Provate a trovare nuovi vocaboli, cercate di capire meglio qualche parola, provate a aggiungere qualche espressione idiomatica al vostro linguaggio. E insomma, statemi a sentire per questa mezz'ora più o meno. Spero di non esagerare. Quindi statemi a sentire e io spero di essere anche un po' divertente o rilassante. Non lo so, vedremo. Quindi la giornata di oggi è stata molto buona, davvero molto buona. È iniziata con una bella nuotata nel mare, però andiamo con ordine. Ieri ho, come vi ho detto, ho continuato il mio digiuno fino a questa mattina. Quindi 34 ore senza problemi, con una corsa. Devo dire che questi esperimenti col mio corpo mi piacciono. Questa mattina avevo fame, però vi dico la verità. Mi sono svegliato con la voglia di fare colazione. Quindi il tempo di alzarmi dal letto, prepararmi per andare al mare. Quindi sono uscito, mi sono fermato a fare colazione prima, perché avevo una fame, una grande fame. Quindi ho mangiato il solito cornetto vegano, perché è martedì. Un caffè e poi sono andato verso il mare. Quindi più o meno verso le otto e un quarto circa. E sono arrivato sempre al solito posto, quello che mi piace di più. L'acqua era molto, molto pulita. A quell'ora è davvero fantastico. Non so perché durante la giornata poi questa situazione cambi, ma la mattina presto è davvero molto piacevole. E quindi non ho aspettato per niente. Insomma, appena mi sono sistemato su uno scoglio, anzi su una di queste sedie di marmo, possiamo dire, su cui è possibile sdraiarsi. Ne ho trovata una libera, mi sono sistemato e poi un bel tuffo, senza aspettare, senza pensare. Uno scoglio un po' più alto, un bel tuffo nell'acqua fresca e una bella nuotata. Una nuotata di qualche minuto, non so quanto, e poi un quarto d'ora, almeno 20 minuti, a galleggiare, che ormai è una parola che tutti conoscete. E galleggiare a quell'ora, la mattina presto, in mezzo a un bel silenzio, sotto il sole, è davvero piacevole. Toglie ogni ansia, toglie ogni rabbia, toglie ogni, come dire, ogni cattivo umore e fa iniziare bene la giornata. Quindi ero già molto molto rilassato. Poi dopo un po' bisogna uscire, altrimenti diventa troppo. E poi mi sono sdraiato al sole ad asciugare e anche lì devo dire che è stato molto rilassante. C'era una signora un po' anziana a fianco a me, in queste, chiamiamole, sdraio o lettini di marmo. Era seduta a fianco a me. Non so perché, ma era un po' infastidita dalla mia presenza. Eppure stavo lì, zitto, tranquillo, a prendere il sole. Non lo so, ma mi è dispiaciuto un po' perché in qualche modo le ho dato fastidio, anche se non so perché. Comunque mi sono goduto almeno 30 minuti, 40 forse, di sole. Questo periodo è perfetto, la temperatura non è per niente alta, il caldo non è fastidioso, l'acqua è a una temperatura giusta. Quindi stare al sole è davvero rilassante. Quasi quanto stare in acqua a galleggiare. Però dopo 30-40 minuti, quasi a dormire forse, con un po' di musica nelle orecchie, mi è venuta voglia di fare un altro bagno prima di tornare a casa. Avevo una lezione alle 11.30 del mattino, quindi purtroppo non potevo restare tutta la mattina a prendere il sole. Però quando mi sono alzato per un altro tuffo in acqua, ho trovato purtroppo una brutta sorpresa. Come gli altri giorni, più o meno verso le 10.30, le 10 o le 10.30 del mattino, l'acqua diventa sporca. Non so bene da dove provenga queste chiazze di acqua sporca. Una chiazza, come dire, è una superficie abbastanza grande con, possiamo dire, liquido o anche dello sporco, insomma. Quindi una superficie del mare abbastanza grande era piena di questa, di questo, di questo sporco. Molte cose come, non so, plastica, della carta e anche una strana schiuma un po' oleosa, come se fosse olio, diciamo. Probabilmente sono barche che lavano serbatoi o lavano anche un po' la, sì, l'intera barca e la, e la, e svuotano poi infine l'acqua nel mare per, per pulire quindi la loro, la loro, la loro barca. È possibile, non sono sicuro, però ogni giorno a quest'ora, a quell'ora capita questo. Quindi ero molto dispiaciuto perché non, non era il caso di fare un altro bagno, per niente. quindi per niente contento, mi sono preparato per andare via. Però il primo bagno era stato molto, molto buono e molto rilassante, quindi non ero troppo arrabbiato, la rabbia non c'era. Beh, tornato a casa, ho sbrigato qualche commissione e ho iniziato le mie lezioni del mattino. Questa, in questa giornata non c'erano tante lezioni, a dire la verità. Ne avevo una più o meno prima di pranzo e una più o meno all'ora di pranzo e poi una lunga pausa fino alla sera. Mentre facevo la prima lezione con una persona nuova, che non conoscevo per niente, ed è stato molto interessante conoscere questa persona, beh, mentre parlavamo ho ricevuto un messaggio, ma non l'ho letto subito. Era un messaggio di mio fratello. Appena finita la lezione ho avuto questa bella notizia e hanno chiamato dall'ospedale e quindi probabilmente molto presto fisseranno un appuntamento per l'operazione al cuore di mia madre. Una cosa che mi fa molto piacere e speravo di riuscire a risolvere questo problema prima dell'arrivo dell'autunno e forse, forse sarà possibile. Ci sono buone possibilità che questo appuntamento sia prima del 15 settembre. Vedremo, speriamo bene e comunque già è molto positivo che nel prossimo calendario delle operazioni mia madre sarà sicuramente inserita, quindi su questo non c'è dubbio. Ovviamente quando conoscerò le date dovrò insomma prenotare un posto insomma per qualche giorno per stare a Roma e sicuramente non è la migliore delle situazioni per stare a Roma, ma non sarà una vacanza, però mi fa piacere lo stesso passare qualche giorno lì. Ci sarà sempre un po' di tempo per fare almeno una passeggiata, insomma. Per cui buone notizie. Un'altra buona notizia era che forse oggi avrebbero consegnato un nuovo computer, che aspetto, ma purtroppo c'era stato un errore e ho ricevuto un messaggio sbagliato. Nei prossimi giorni arriverà questo nuovo laptop, questo nuovo portatile che voglio usare per lavorare in libertà. Bene, quindi mattina con queste lezioni fino all'ora di pranzo, poi nel pomeriggio un po' di riposo, ho pensato di concedermi un po' di relax ancora. Non ho creato nuovi contenuti purtroppo, ma userò il testo di lunedì per fare degli esercizi. Mi dispiace un po' perché mi sembra che questo testo non abbia avuto molto successo, a dire la verità. Non è stato visitato moltissimo il blog, ma spero che in futuro questo tipo di post in cui scrivo un po' liberamente ci siano più spesso e siano anche più, come dire, apprezzati da chi legge il blog. Beh, nel pomeriggio, come ho detto, non ho fatto molto, a dire la verità. Mi sono occupato di alcune questioni, ho scambiato qualche messaggio con la disegnatrice, come vi avevo detto, ma in realtà non c'è stato molto. Non ho fatto molte cose, però ho fatto le lezioni. Sì, c'è stata un'altra lezione nel pomeriggio, alle 4 circa. Nella pausa tra la penultima lezione e l'ultima lezione, quasi due ore di tempo, quindi prima sono uscito per fare un po' di spese e poi dopo sono ritornato al mare. Quando posso voglio andarci la mattina e il pomeriggio prima di cena. Questa sera sono andato e l'acqua era abbastanza pulita, ma il mare era già un po' agitato. Credo che domani il tempo non sarà bello e credo che stia arrivando del maltempo anche qui nella mia zona. Probabilmente domani non sarà possibile andare al mare, ma io spero di sì. Però alcune brutte nuvole si sono avvicinate questa sera e forse domani sarà nuvoloso oppure pioverà addirittura. Ma vedremo. Dopo questo bel bagno, molto veloce però, sono restato 30 o 40 minuti per fare il bagno e per asciugarmi in modo molto rilassato e quindi poi sono rientrato a casa per l'ultima lezione alle 7 e 30. Molto piacevole, molto rilassata anche questa e poi alla fine una bella cena con una bella insalata fresca che mi è piaciuta molto e poi ho deciso di uscire, uscire per una bella passeggiata quindi più o meno intorno alle 10 mi pare sì, più o meno, no, un po' prima forse sono uscito e ho fatto una lunga passeggiata e anche una bella chiacchierata con un'amica che mi ha fatto molto piacere e che mi ha rilassato molto sì, è stata una bella serata molto tranquilla, molto rilassante appunto e quindi anche il podcast spero sia più rilassato e tranquillo questa è la mia giornata queste le cose che ho fatto io niente di eccezionale però a me è piaciuta una buona giornata delle buone sensazioni e un po' di pace finalmente e di tranquillità questa è la cosa più importante bene, per me quindi è tutto qui non c'è altro da aggiungere vediamo invece cosa è successo un po' in Italia le notizie più importanti che non sono davvero tante anche oggi c'è sempre questa notizia che occupa molte pagine del giornale quella dei profughi dell'Afghanistan di tutte queste persone che scappano e che vogliono raggiungere dei paesi più sicuri in cui non rischiano la vita l'Italia come vi ho detto ieri è impegnata per cercare di evacuare cioè di portare via, portare fuori 2700 afghani e ovviamente poi tutti gli italiani che sono ancora per varie ragioni in Afghanistan speriamo che tutti possano tornare sani e salvi a casa e che tutti insomma possano mettere fine a questo incubo che da qualche giorno tiene il mondo con il fiato sospeso beh a parte questa notizia devo dire che non c'è molto altro purtroppo una notizia tragica è crollata è crollato un palazzo a Torino e quindi ci sono stati molti feriti e purtroppo anche un bambino morto questa è una brutta notizia ovviamente non mi fa piacere darvela ma è quella che ha occupato un po' di spazio sui giornali un'altra notizia di questi giorni è quella che riguarda gli sbarchi a Lampedusa continuano ad arrivare molte molte persone e come sempre l'isola è un po' in difficoltà perché i posti non sono molti e quindi spesso ci sono tensioni a causa del sovraffollamento dei centri di accoglienza e ovviamente i politici dell'isola cercano sempre un po' di trovare l'aiuto del governo e cercano insomma di alzare un po' la voce per farsi sentire perché qualche volta si sentono un po' lasciati da soli sembra però che ancora la situazione sia abbastanza sotto controllo ma purtroppo qui una soluzione definitiva non ci sarà mai probabilmente o almeno non sarà facile trovarla questo è tutto un po' per le notizie non covid come vi ho detto non ce ne sono molte in questi giorni non è non c'è non c'è quasi nessun'altra come dire nessun altro argomento che in questo periodo propone qualcosa di interessante insomma è quasi tutto fermo a parte questi problemi che tutti conosciamo bene ovviamente c'è il bollettino del covid possiamo evitare come sempre io spero di evitarlo un giorno ma non credo che sarà facile per molti mesi ancora quindi i dati di oggi 6.076 positivi tasso di positività al 2,28% 60 morti e sono tantissimi purtroppo quindi la situazione è più o meno stabile con una tendenza alla crescita all'aumento del contagio per fortuna aumenta e cresce anche il numero dei vaccinati 36.655.212 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale 75.838.000 sono le dosi somministrate queste le notizie del bollettino del covid non c'è altro da aggiungere per quanto riguarda le notizie in generale quindi passiamo un po' alle rubriche finali quelle con cui chiudiamo di solito e oggi ci sono ci sono alcuni anniversari ce li ho ce li ho prima di tutto ce n'è uno storico uno importante forse avrei dovuto scrivere qualcosa su questo oggi non l'ho visto prima e quindi non mi sono accorto di questo di questo importante evento bene secondo le ricostruzioni storiche il 24 agosto del 79 dopo cristo quindi 1942 anni fa il Vesuvio esplodeva con un'eruzione violentissima e distruggeva le città di Pompei Castellammare di Stabbia ed Ercolano questi sono stati i luoghi colpiti da questa eruzione violenta ma tutti voi sapete che il nome più importante il primo nome che viene in mente quando si parla di questo evento è quello di Pompei perché Pompei è diventato praticamente il sito archeologico più grande al mondo ed è un sito archeologico che ha ancora molti tesori da portare alla luce e che incanta un po' tutto il mondo molte persone molti di voi forse sono stati già a Pompei una volta mi sono ricordato ieri mentre parlavo con una persona in una lezione che non vado a Pompei da 20 anni forse è il caso di tornare a fare una passeggiata da quelle parti e quindi forse non so nelle prossime settimane nei prossimi mesi è possibile che io decida di andare a fare una visita in questo luogo così straordinario non è molto lontano da me è un po' scomodo forse ma non è così difficile arrivarci quindi qualche volta mi dimentico che vivo vicino a molte città importanti e vicino a molte aree interessanti da visitare devo ricordarmi più spesso di questo come ogni italiano a dire la verità tutti noi italiani diamo per scontato il paese in cui viviamo ma da quando io parlo con voi mi rendo conto che questo è un grave errore perché il nostro paese è ricco di tesori è ricco di storia è ricco di cose interessanti da 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 vedere da vivere soprattutto quindi noi italiani siamo poco grati cioè non siamo spesso così consapevoli della nostra fortuna e non solo non non ci godiamo le belle cose che abbiamo ma qualche volta purtroppo le roviniamo anche e questo è una cosa questa è una cosa grave perché tutto il mondo ci guarda e tutto il mondo è un po' invidioso di luoghi come Pompei ad esempio no? quindi noi italiani dobbiamo imparare ad amare di più le cose belle che abbiamo bene a parte questo anniversario ce n'era un altro adesso ve lo dico eh un attimo solo perché ne avevo selezionato un altro ma non mi ricordo più niente ah ecco purtroppo anche questo è un un evento brutto in epoca moderna è l'anniversario di un di un grande terremoto di cinque anni fa che ha distrutto diverse città nelle zone centrali del paese nelle province di Rieti e in tante piccole città di questa zona nella provincia di Rieti ci sono stati molti molti danni e anche purtroppo diversi morti quindi queste questi due anniversari un po' tristi un po' negativi per questo 24 agosto ma vediamo invece quali sono i compleanni se ci sono i compleanni se c'è qualche personaggio famoso a cui è giusto o dobbiamo fare gli auguri sicuramente c'è un anniversario quello della nascita di Peppino De Filippo 118 anni fa nel 1903 Peppino De Filippo è il fratello di Edoardo De Filippo e insieme alla loro sorella Titina De Filippo sono stati dei grandi protagonisti del teatro italiano e anche del cinema quindi Peppino è stato un po' lontano dal fratello per problemi tra di loro ma sicuramente questi sono due tra i più grandi artisti che la città di Napoli ha avuto la fortuna di avere quindi questo è un anniversario abbastanza importante nel mondo della cultura italiana sicuramente parliamo di personaggi popolarissimi in Italia e amatissimi anche giusto quindi ricordare questo anniversario compleanno anniversario di Peppino De Filippo per quanto riguarda invece dei personaggi contemporanei fatemi ritornare a guardare beh sì vabbè ve lo do vi do questo questo nome non voglio dire che non mi fa piacere ma diciamo che non è tra i miei attori preferiti anche se è considerato probabilmente uno degli attori più importanti e più bravi dell'Italia contemporanea il suo nome è Pierfrancesco Famino e oggi compie 52 anni tanti auguri a Pierfrancesco sicuramente a lui non interessano i miei auguri ma forse non avrebbe piacere il modo per il modo in cui li ho dati sembra quasi che non non sia contento di fargli gli auguri mi dispiace ma no scherzo è un grande attore non c'è dubbio su questo però diciamo che non è il mio genere di attore preferito però resta uno dei protagonisti del cinema italiano che ha lavorato anche molto fuori dall'Italia quindi ancora una volta tanti auguri Pierfrancesco con lui è tutto per quanto riguarda questa rubrica non c'è nient'altro nessun altro da salutare nessun altro a cui fare gli auguri non resta che il l'aforisma l'aforisma del giorno prima di salutarci con l'appuntamento a domani beh ho scelto oggi una frase abbastanza interessante per me e quindi la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa la rabbia non porta da nessuna parte quando tu sei troppo incazzato ti capiscono solo quelli incazzati come te vi chiedo scusa per la parolaccia anzi per le due parolacce vi invito a scoprire il nome di questo personaggio se stiamo parlando di un'autrice o di un autore il tipo di lavoro che questo personaggio fa insomma scoprite un po' di chi si tratta e provate anche a cercare qualcosa sulla loro vita sulla sua vita e sulla sua opera con questa frase importante sulla rabbia è tutto è bello non sentirsi arrabbiati è bello essere sereni è bello essere più calmi quindi con molta calma con molta tranquillità io vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio vi invito come ho detto prima a farmi un po' di pubblicità per favore e per il momento per oggi è davvero tutto qui quindi io vi saluto e ciao a tutti a